Filippo Rajcevic il gol che ha sbloccato una partita che poteva diventare anche più complicata di come è stato si poteva però questo oggi c'è stata una grande dimostrazione di questa squadra che quando c'è non ce n'è per nessuno quindi penso che per venire qua a Foggia è una squadra difficile da affrontare molto forte non era facile però penso che non abbiamo mai rischiato neanche messo in dubbio il risultato siamo riusciti ad aprirla il tempo giusto potremmo già chiudere praticamente nel primo tempo visto diverse occasioni davanti al portiere però tutto sommato penso una grande prestazione da parte di tutti e tre punti meritati si può dire una prestazione da squadra matura sì c'è questa sensazione perché vedere vedere una squadra che sta vincendo 2 0 paleggiare a novantesimo nella metà campo di degli avversari tenendo la palla sono i segnali di squadra matura però purtroppo non basta essere una squadra matura bisogna continuare su questa strada e cercare di arrivare al nostro obiettivo il prossimo avversario oggi ha ottenuto un risultato importante no il cadanzaro vincendo a palermo sarà il nostro prossimo avversario sì una squadra fortissima che che l'ha dimostrato nel largo del campionato non sarà neanche non assomiglierà neanche la partita dell'andata che abbiamo vinto 5 1 che tra l'altro anche la primo tempo era una partita dura che era finita poi eravamo usciti fuori però sarà una un'altra partita molto difficile una trasferta difficile però noi giustamente come tutto il campionato andiamo a giocarcela con tutti e provare provare vincere